Allora oggi stiamo facendo un corso per i capi di nuova nomina, stiamo trattando l'argomento della comunicazione in questo momento e lo facciamo con dei video, quindi noi adesso andremo tra un attimo, finita questa registrazione, a vedere un film da cui trarremo gli insegnamenti che abbiamo appena fatto, quindi 5 assiomi della comunicazione attraverso un film. Posso andare? Lidia, qual è la cosa che ti ha colpito di più? I vari metodi di comunicazione che ci hai spiegato e questi 5 punti che hai voluto specificare insegnandoci così i vari metodi di comunicazione che ci sono tra le persone.